Ed eccoci qua con un'altra cornice di questa La Roma Estate, avevamo sentito Luigi Pasculli, uno dei nostri redattori di Stappradio.it, ci colleghiamo con un altro ospite, che definirlo ospite è poco perché è un grandissimo amico, soprattutto è una persona schietta e sincera e noi amiamo le persone schiette e sincere, sto parlando di Virgilio, su Facebook Virgilio Virgi, che ogni sera conduce la trasmissione su Radio Manamana Sport dalle 21.30 alle 24.00, Virgilio buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Dicevo che conduce la trasmissione La Storia Siamo Noi su Radio Manamana Sport, 90.9 in modulazione di frequenza romana, sul web pure, quindi si può ascoltare tranquillamente, penso, su tutto il globo terraqueo, tiene sempre il polso delle tifose, dei tifosi giallorossi. E allora con Virgilio oggi, 6 giugno, affrontiamo proprio la situazione del polso dei tifosi giallorossi e delle tifose giallorosse. Virgilio, gente fiduciosa che pensa che la Roma finalmente faccia questo salto di qualità oppure tutti con i piedi per terra, uno scalino per volta? Non ho la presunzione di sentire tutti i battiti dei polsi dei romanisti, però secondo me bisogna essere fiduciosi perché le parole di Sabatini nell'ultima conferenza stampa, è quello che ultimamente ha detto anche l'allenatore della Roma, ci fanno sperare e credere che la Roma opererà bene sul mercato. Secondo me già ha cominciato bene perché Keita, a prescindere dall'età, è un giocatore che se noi pensiamo che va a sostituire Taddei per un anno, credo che la Roma già abbia fatto una grossa miglioria per esperienza, per carisma, ma anche come livello di immagine, Keita è un giocatore importante e quindi la Roma ha già cominciato bene secondo me. Virgilio, ma Rodrigo Taddei non si poteva tenere per un altro anno? Non credo proprio, anche perché credo che abbia dato tutto, ma non si può parlare con Taddei a Keita, stiamo a parlare di due mondi diversi. Questo è vero. Se devo rinnovare un anno il contratto a Taddei a 800 mila euro, preferisco prendere un anno Keita o un milione, ma stiamo a parlare di due mondi diversi, stiamo parlando di un giocatore che credo che in Europa abbia dimostrato il suo valore. Poi stiamo parlando di un giocatore che non è che giocherà titolare, non è che sarà il titolare della Roma, è un giocatore importante che va a rinforzare il reparto già forte, formato da quattro giocatori di grande livello, quindi lui è il quinto. Quindi siccome lo scambio, se vai a pensarci mentalmente, Taddei-Keita, viva Keita! Non mi voglio mettere in paragone, sarei un pazzo. Assolutamente, i due giocatori sono di spessore diverso. Noi dicevamo, pur prendendo Keita, mantenevamo anche l'amico Rodrigo Taddei. Sì, mi sembra un po' eccessivo, onestamente. No, diciamo, è un po' anacronistico forse. Sì, allora si affezioniamo a tutti. Se diamo retta ai nostri sentimenti, nella Roma ci sarebbero 40 giocatori, ma siccome non ci può fare. Questo è vero, questo è vero. Ma Virgilio, i tifosi giallorossi sono un po' troppo sentimentalisti, secondo te? Sì, perché noi siamo molto passionali, ci attacchiamo ai giocatori e sbagliamo. Io sono anni e anni che dico che bisogna essere attaccati solo alla maglia. Poi, per carità, ognuno di noi, nel cuore, c'ha un giocatore, ancora nel cuore c'ho Rudy Feiler, Bruno Conti, per carità, Sebino Nela. Però stiamo parlando di discorsi impersonali, ma un romanista dovrebbe amare la maglia, a prescindere se la indossa uno o l'altro, perché quello che ami è la Roma. Non è che voleva amare i giocatori, se ami i giocatori sbagli. Questo è vero. Virgilio, Benatia a sto punto rimane? È tutto a posto? Ma, sentito il signor Sabatini, Benatia rimane. Poi, ripeto, se arriva lo sceicco impazzito e offre 50 milioni di euro alla Roma, credo che il signor Benatia avvia. Punto. Non è che il prezzo lo fa il procuratore di Benatia, il prezzo lo fa la Roma. E questo sì. Vediamo proprio, stiamo parlando di giocatori che ha altri 4 anni di contratto. Ha fatto bene Sabatini a precisare che le condizioni le detta la Roma. Certamente, il coltello da parte del medio ce l'ha la Roma, non il giocatore. Tattomeno il suo procuratore. Oh, ma ti sembra che il giocatore abbia capito che il suo procuratore aveva un po' esagerato e quindi è tornato indietro sui suoi passi dicendo ma avete capito male? Io non lo so se uno ha capito male o non ha capito male. Che lui sicuramente abbia ricevuto delle offerte, lui, il suo procuratore e lui insomma insieme. Magari abbiano ricevuto delle offerte superiori, contrattualmente parlando, a quelle che gli dà la Roma, ne sono quasi convinto. Ma da questo a poi a tutto quello che è accaduto dopo, no. Perché fino a prova contraria il giocatore non deve essere contattabile perché è sotto contratto. Se c'è qualcuno interessato a Benatia deve chiamare la Roma, non il procuratore. Certo, poi col procuratore ti ci metti d'accordo in fase successiva. Se ci mancherebbe altro, sarebbe troppo facile. Ma il procuratore per caso ha gettato un po' di fumo negli occhi di tutto per alzare il prezzo del suo assistito, nel senso più di avere un aumento contrattuale dalla società. Lui ci ha avuto tutti gli aumenti che la Roma gli ha promesso. Perché lui contrattualmente, quando arriva dalla Roma, gli avevano già detto che se il campionato fosse andato in una maniera, se la Roma entrava in Champions, se la Roma arrivava alla seconda, avrebbe avuto un aggiustamento di contratto. e ce l'ho avuto. Più i bonus, stiamo parlando quasi di un milione di aumento in confronto a quello che prendeva prima. Qui stiamo parlando di 2 milioni e mezzo alla fine. Ma che stiamo a giocare? Io non lo so. Se poi c'è un passo che gli offre 5 milioni, per carità, e da 50 a Roma si prende Benatia. Sì, sì, sì. Tant'è vero che Sabatini disse vale 61 milioni. E Sabatini ha voluto un po' esagerare nel senso, ha voluto far capire che non è sul mercato. Era un paradosso. Il prezzo soprattutto non lo fa il procuratore, perché 30 milioni di 30 milioni ha parlato il suo procuratore, di Benatia, non la Roma. E giustamente Sabatini è rimasto picchiato, ha detto vabbè il 30 al piede sinistro, anzi 30 a quello destro e su 60. Ah, ci ha detto 61. Sì, sì, sì. Da lì è uscito 61. Secondo te ci sarà qualche acquisto a sensazione da parte degli esperti? A sensazione se intendi Suarez, no? Ecco, quello... Pensi che la Madrid ha offerto 80 milioni di euro per Suarez, no? Quindi la Roma... L'Italia non è la Roma. In Italia non c'è nessuno che può offrire quei soldi per un giocatore. E offrirgli poi il contratto da noto a 10 milioni di euro puliti all'anno. Qui parliamo di soldi puliti, eh. Non è la Roma, è il calcio italiano che è questo. Poi fra due o tre anni, speriamo che lo si migliorino, che ci sarà già l'inizio dello stadio, allora cambierà anche il budget della Roma. Ma in Italia non ci sono proprietari a livello dei proprietari del Madrid, del Barcellona, del Chelsea o del Paris Saint-Germain. Quindi di che stiamo a parlare? Esatto. E questi grandi top player, questi grandi top player che giocano in Italia, ma chi sono? No, di fatti ce ne sono pochissimi. Ce ne erano alcuni fino a due o tre anni fa, poi sono andati via però, mi pare. Sono scappati tutti, che ne so. E caldo di che parliamo? Parliamo di un campionato medio-basso, carissimo. E questa è la realtà dei fatti. Se parli di cartellini che possono costare 20-30 milioni, è un discorso. Voglio arrivare a 35, facciamo 30... Ma se parliamo di giocatori che sul mercato non valgono 70, 80, 90... Se pensi che per prendere bene gli hanno offerto 100 milioni di euro. Ma che stiamo a giocare? Sì, difatti non sono... Ma purtroppo non c'ha gli arabi, non c'ha gli arabi in Roma. Oh, e... Perché non l'hanno voluta. Per quanto riguarda Jackson Martinez, è un sogno proibito? È soltanto per poter parlare di qualcosa durante il calcio a mercato? Mi ha parlato tanto fino a poco tempo fa, poi non se n'è più parlato. Quindi potrebbe essere un buon segnale. Io credo che almeno si parla dei giocatori specifici, più molti di questi hanno la possibilità di venire alla Roma. Credo che Sabatini non dica niente a nessuno, neanche credo ai suoi parenti più stretti. Quindi questo se lo dice ai giornalisti o a qualche ristoratore. Sì, esatto. Sabatini è molto taciturno, ma questa è la sua arma fondamentale. Scusa, quando è arrivato Strotemann alla Roma? Sì. Tu non avevi mai sentito parlare che la Roma era interessata a Strotemann? Assolutissimamente no. Allora, stesso discorso. Tant'è vero che quando è arrivato le prime domande furono ma chi è sto giocatore? No, chi è? Aspetta, chi è nel senso... No, chi è? Stiamo parlando del capitano della Nazionale dell'Antesia. Sì, però chi è nel senso mai visto, mai sentito come riscontro? Ok, poi siamo andati a vedere... Ho scoperto che lo voleva il Milan, lo voleva il Maccio. Bravo, esatto. Alla fine, quando lo prende la Roma, lo volevano altre 15 squadre come minimo. Sempre questo il copione. Ma a proposito, Strotemann probabilmente rientrerà a metà ottobre. Per il momento Sabatini non dovrebbe correre ai pari e trovare un sostituto? Ha preso che età? Che età di 34 anni? Ma scusami, il centrocampo della Roma è formato da Pianici, è una Ingolam e De Rossi. E quindi per il momento... Non capito, la Roma che deve prendere un altro giocatore a che livello? In attesa che Strotemann recuperi e poi? La Roma se può permettere il lusso di spendere 30 milioni per un centrocampista del livello di Strotemann De Rossi o Pianici, no? E poi che può mettere in panchina. E la Roma purtroppo non se lo può permettere. Però giocando per il campionato, per la Coppa dei Campioni e per la Coppa Italia dovrà allargare per forza la Rosa? Sicuramente già l'ha allargata perché adesso i centrocampisti di livello diciamo che sono 5. Un altro lo prende la Roma. Ma se tu pensi che la Roma prende giocatori di certi livelli per far sedere in panchina, stiamo fuori dal mondo. Cioè la Roma non si può permettere di prendere Mascherano, di istituzione di Strotemann tre partite e poi diceva in panchina. Assolutamente, questo no, è chiaro. Non giochiamo, perché la Juventus è panchina a centrocampo, se le vi titolari chi c'ha, scusa? No no, c'ha un livello, c'ha solo Marchisio. C'ha molto poco, un Marchisio che comincia a tirare i primi calci. Però voglio dirti anche, cioè io ormai sono tre anni che vince il campionato in Italia, no? Quindi stiamo parlando della squadra più forte italiana, sulla carta. Sono già due anni che fa la Champions, ma non mi pare che in panchina a livello di sostituzione a centrocampo c'è questi fenomeni. L'unico giocatore di livello a centrocampo che ha è Marchisio. Gli altri chi c'ha? Buoni giocatori e punto. Sì, buoni giocatori che magari sarebbero i titolari in altre squadre di altro spessore. La Roma sulla carta, in panchina, facciamo che i titolari sono Strot, Mandarossi e Pjanic, siamo d'accordo? Sì. In panchina ci abbiamo Nengolan e Keita, non mi sembra che siamo messi male, no? Assolutamente. A proposito di giocatori, Gedevai che va in prestito all'Everkusen o a qualche cosa? È una buona cosa, secondo me, perché lì giocherà sicuramente titolare. È un giocatore, ti ripeto, la Roma l'ha pagato tantissimo, già l'abbiamo affrontato questo discorso. Qua per l'età, l'inesperienza, il carattere, io non so il motivo per cui non ha avuto spazio. Però, ti ripeto, già l'avevamo detto l'altra volta, in Europa, a livello giovanile, era uno dei giocatori più quotati. La Roma l'ha pagato parecchio, no? È vero. Circa 6 milioni di euro, insomma. Se pensi che quando la Roma ha preso Marchignos, alla fine l'ha pagato 1 milione e 2, 1 milione e 3, alla fine. Cioè, stiamo parlando che Gedevai era un giocatore molto quotato. Io sono contento che Valbay e Leverkusen, ho sentito poi parlare di Fellere in maniera fantastica di questo ragazzo, no? Vero. È un guadagno della Roma, perché se là dimostrerà, il talento che ha, lo dimostrerà anche sul campo, è un guadagno per la Roma. Quindi bene, bellissima mossa. Oh, invece il riscatto di Toloi che sembra andare in Porto, quindi Toloi sarà completamente giallorosso? Io mi auguro che vada in Porto, perché vedo, l'ho visto bene io, non mi è sembrato un giocatore maturo, mi è sembrato un giocatore che si è adattato benissimo con Cassane, quando mancava bene a Tia. Quindi la Roma fa bene a riscattarlo, se quella ha la cifra. Ma la cifra che vuole il Santos non credo, perché si parlava di 6 milioni, 6 milioni e mezzo. Ma a 3 milioni, 3 milioni e mezzo, la Roma fa benissimo a riscattarlo. E soprattutto può essere in campionato un'alternativa quando mancheranno o Benatia o Castane. Poi bisogna vedere se Romagnoli rimane. Però può anche darsi che la Roma, come penso, prenderà anche un altro difensore centrale, credo. Così mi hanno detto. Quelli che ne sanno meglio di me. Esatto, per cui comincia a puntellare tutta la difesa. Certo, ma la Roma deve andare a cercare di puntellare anche l'esterno basico. Adesso si parla di esterno. Una volta lo chiamavamo terzini, ricordi? Ma sempre terzini rimangono, guardi. Adesso sono esterni basi, esterni alti. Quello a me è mezzo a stagione. Cioè, tante volte storpiamo delle situazioni e dei termini calcisti. Ma quanto era bello il portiere, il tazzino, lo stopper, il libero. E come no, come no. C'è tra l'anti, il leggista. Mezzala di punta. Mezzala, mezzala. Sì, 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 me li ricordo benissimo. Il mediato, ricordi? Il mediano. Mediano di spinta. Adesso si chiamano interni. Guarda, nelle figurine panini del 65-66, che ancora tengo conservate gelosamente, c'era scritto, per esempio, di Giovanni Lodetti o di Trapattoni, o di Losi, mediano di spinta. Mediano di spinta. Era quello il termine. Il mediano è quello. Esatto. Per cui, oggi, tra esterni bassi, esterni alti, interni alti, esterni alti... È una cosa imbarazzante. È come i numeri delle maglie. Non ci si capisce più nulla. Per carità. Ascolta, amai che sono dall'1 all'11. Virgilio... Ricominci al 12, era il portiere, lo ricordi? Romina mi sta scrivendo in chat. È vera la storia di Antonelli che arriva a Roma e Borriello che va al Genoa? A me non mi risulta. Oddio, Antonelli non sarebbe male a sinistra. Io credo che veramente Borriello, il contratto di Borriello... Adesso io non voglio fare, come al solito, pensando alla vecchia proprietà, no? Sì. Ma Borriello ha fatto certi danni alla Roma che sono inimmaginabili. Cioè, ma tu ti rendi conto che il contratto di Borriello è un contratto da top player? Fatto, fatto, guarda, in una maniera veramente subdola, perché tutti sapevano benissimo che avrebbero venduto la Roma dopo sei mesi. Ci hanno fatto trovare dei contratti a questa nuova proprietà, hanno allucinanti. Ti parlo di due contratti, quello di Borriello e quello di Burdiscia. Cioè, è una cosa allucinante. Questo è uno che prende quasi 4 milioni di Euro. Ma tu ti rendi conto di che stiamo a parlare? Esatto, però... Un contratto di 5 anni gli fecero. Però è un giocatore che, rientrando, non trova spazio nel disegno. Ma che spazio trova? Che non sono mai a chi dallo. Ecco, però, se Gilardino andasse via alla corte di Lippi, come stanno raccontando qualcuno, e Borriello ritornasse al Genoa in maniera definitiva, Antonelli alla nostra squadra potrebbe fare comodo? Lo so, potrebbe fare comodo, ma questi sono discorsi che dovresti chiedere a Garzia. Il problema è che la Roma si deve accollare un'altra volta, credo, la metà del contratto di Borriello, a prescindere di dove va. Questa è una cosa allucinante. Per un altro anno, ma tu ti rendi conto? No, no, questo è vero. Eredità fantastica che ci ha lasciato questa grande famiglia, sì. È verissimo questo. La lasciamo stare. Sono fatti concreti. Ricordi i contratti dei cinque anni spalmati a Montella, a Panucci? Il contratto che fecero a Perrotta? Come no? A Simone Perrotta? Ti ricordi le cose allucinanti? Sì, 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 ricordo tutto. E questi si sono trovati tutto a sto malloppo, eh? E vabbè, loro sono professionisti pure del Dio denaro e chiaramente hanno sfruttato l'onda, eh? No, poi hanno sfruttato anche la benevolenza di chi all'epoca diceva, ma che me importa? Tanto perci mano che pagano altri. Esatto. Ci siamo capiti, sì? Sì, sì, ci siamo capiti. Non è male che ci siamo capiti. Ci siamo capiti benissimo. Situazione portieri invece, Virgilio? Ma pare che l'operazione a De Santis sia andata bene, non è gravissimo come qualcuno pensava, quindi credo che De Santis ad agosto sarà a disposizione della Roma, non so se continuerà a fare fisioterapia e a settembre è arruolato, poi avevamo qualche titubanza sul vice, no? Sì. Perché molti erano titubanti sul giovane polacco, però mi pare che ha dimostrato che in porta ci sa stare. Sì, sì, in porta ci sa stare, poi è chiaro che deve prendere il ritmo partita però. Certo, certo. Perché se gioca una volta ogni morte di papa è normale che abbia delle titubanze che altri portieri giocando di più non hanno, no, Virgilio? Non so, però quelle sono scelte la società, io credo che De Santis gioca un altro anno di tolare. E poi se la Roma ha puntato su Scheruski e giocare a lui. Quindi possiamo stare tranquilli che se De Santis all'inizio del capitolo... Stai tranquillo che se la Roma verrà a sapere o gli verrà comunicato dallo staff sanitario, dal professore che l'ha operato, che ci sono dei problemi ulteriori, la Roma troverà un portiere. Ma se la Roma non lo cerca è perché sta benissimo, gli hanno confermato, gli hanno garantito che De Santis è recuperato, sennò lo cercano in portiere. È vero, è vero. Mi pare che vanno a giocare il campionato italiano e la Champions con un portiere solo? Lobbott ormai fa altre cose. Sì, vabbè, Lobbott è sempre pronto come terzo portiere. No, ma fa altre cose proprio all'interno della società, gli hanno fatto un contratto perché lui fa un sacco di altre cose. Cura gli allenamenti dei portieri, è uno che comunque fa spogliatoie, è uno... Cioè, gli hanno riconosciuto delle attitudini che vanno al di là del terzo portiere. Questo è il discorso. Questo è il discorso. Per quanto riguarda gli attaccanti, lo troveranno mai un alter ego di Francesco Totti? Beh, Francesco Totti non è un giocatore facile da sostituire, anche perché poi è un giocatore un po' così, particolare, no? Perché non è stato mai un regista. Se tu pensi che c'è il 10, no? Non è stato mai un regista, non è stato mai un centravanti. Sì. Però è stata una grande via di mezzo. Sì, 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 è vero. Una volta Platini fece una battuta su Baggio, no? Disse un fantastico 9 e mezzo. Ti ricordi la battuta che fece? Come no? Era storica. Ecco, perché noi, che nel numero 10, noi antichi soprattutto, no? Il numero 10 ha sempre rappresentato un giocatore un po' diverso, no? Totti invece è stata la giusta via di mezzo, tra il 9 e il 10. Quindi non è un giocatore facile da sostituire, no? Assolutamente. Quindi non lo so. Certamente non è che noi dobbiamo pensare che nel prossimo campionato in Champions Totti è sostituto da destra. Perché non credo che sarà così. La Roma deve cercare un'alternativa a destra. Totti è la ciliegina sulla torta, no? Sì, quello che ti può cambiare la partita... Bravo, però lo devi prendere a piccole dosi, non puoi pensare che gioca 45 partite. E' tutto qua. Felice ci sta scrivendo. Un grande abbraccio a Virgilio, condivido tutto quello che dice, ma con un attacco stellare, con i turbe cerci sulle fasce e un centravanti degno di questo nome, saranno dolori per tutte le altre difese del campionato. Insomma, lui e Gervinio te lo mette. Eh, Gervinio farà parte dei 14-15. Ah, lo mette in panchina. Vabbè, ma... Ma guarda che se prendano i turbi e i turbi siamo tutti contenti, non è una battuta. Eh, Virgilio, però se tu avessi i turbi e i turbi e i gervinio, eh beh, sinceramente hai una gamma di scelte e di alternative. Se tu avessi Gervinio, i turbi, i cerci e destro, Totti gioca più. Vabbè, ma è anche giusto che Totti... No, siccome invece molti ancora danno per scontato che Totti è il vice destro, che io questo poi sento e vedo anche dai, come si chiamano questi, siti, blog fantastici, come lo chiedi? C'è quel termine molto anglosassene che non mi viene mai a me. I social network, no? Sì. Ancora danno in alternativa a destro Totti, addirittura qualcuno mette ancora Totti e mette in alternativa a destro. E mettiamoci tutti d'accordo però, eh? Perché poi se no non usciamo più da questo discorso. Beh, non usciamo più anche perché guai a chi tocca Francesco Totti, però bisogna vedere... Ma che bene, guai a chi, ma io non glielo voglio toccare nessuno. Però se siamo razionali e ben pensanti, poi i conti sono quelli. La Roma se prende i turbi e ceci fa un grande salto di qualità. Però se pensi che c'è pure Florenzi, c'è pure Gervinio, c'è pure destro, Totti qua non gioca, mai. Secondo Mauro... Di Totti anni si mettessero d'accordo, è tutto qua il discorso. Secondo Mauro di Largo Preneste, che ti saluta e ti segue quasi tutte le sere... Grazie. ...su Radio Manamana. Vedi come cominciano ad affiorare tutti gli amici e amiche. Destro sarà ceduto per suddietro una grande offerta e sarà preso un centravanti migliore. E chi va a fare questa grande offerta? Ah, non lo so. Scusa, mi pare che hanno preso il capocannoniero italiano a 20 milioni di euro. Quindi Destro quanti ne vale? Eh, è giusto. E quale è questa grande offerta? Oh, che poi il capocannoniero... La offerta ai pizzerai del mondo di internet che sparano 20, 30, 40, 50. Ma di che? Esatto. Però poi il capocannoniero italiano che è stato svenduto all'estero. Svenduto? Non so, evidentemente il prezzo del mercato era quello, se non avrebbero parlato da qualcun'altra. Vigilio, a proposito di squadre italiane, ma ha ragione il Presidente del Parma all'Agnarsi che è stato fatto un grandissimo torto al Parma non ha... No, il Presidente del Parma se la prendesse con i suoi commercialisti. Eh, perché il Presidente... Io non dico che è colpa sua, evidentemente qualcuno si è dimenticato di pagare qualche cosa. Oh, ma di solito... E poi lui è arrabbiato, perché evidentemente il problema, lui, il problema suo del Parma l'ha portato in visione a grandi papavi della Federazione Italiana a gioco calcio, che gli hanno garantito, non ti preoccupare, stai nel giusto, ci passiamo noi, ti tuteliamo noi, Btp e Badabà, è un altro discorso, lui infatti era molto avvelenato col palazzo. Però lui prima di tutto se la prendesse con i commercialisti che si sono dimenticati evidentemente di pagare qualche cosa. Oh, ma... O me sbaglio? No, no, ma secondo il Presidente, almeno questo si deduce tra le righe, dice sì, ho pagato in ritardo, chiaramente mi dai una multa perché è giusto che io pago questa... Eh, le normative UEFA non parlano delle multe. Parlano di esclusione però. Evidentemente, ti ripeto, e lui è molto avvelenato per questo, l'abbete Pino Silvestre di Dac, come lo chiamo io, o altri papaveri del CONI, della Federazione, gli avranno fatto delle promesse che non sono riusciti a mantenere, ma le normative UEFA sono quelle, se non paghi stai fuori, quale multa? Quindi il Torino ha tutti i diritti di poter partecipare alla Coppa? Anche se meritava pure il Parma, e questo è il discorso. Esatto, meritavano sia Parma che Torino per dirla... Sì, per giocare in zona in Coppa UEFA sì. Esatto, poi abbiamo delle situazioni magari di un calcio di media bassa qualità, andiamo in Europa e prendiamo gli schiacci. Ma che c'è? Noi in Italia siamo abituati con i mezzucci, no? Sì, sì, sì. In Europa non si scherza, tant'è vero che ci sta scrivendo Simone, tra un po' parlerete di mondiali, guarda, giro subito la pagina e rivolgo la prima domanda. Visto la fallosità di due difensori come Bonucci e Chiellini, toh, non ho presi due a caso, ai mondiali li prenderanno qualche cartellino rosso sti due oppure no, secondo te? Beh, se vogliamo bene all'Italia dovremmo augurarci di no, però rischiano. Soprattutto Chiellini che è abituato a giocare qua in un modo, ma in Europa come gioca lui ti ammuniscono, facile. Eh sì, sì, sì. Gli piace giocare con i comodi alti, gli piace giocare con le braccia larghe, gli piace mettere le mani addosso, in Europa non si può fare. E nei mondiali? In Europa il contatto, il take, il duro lo possono anche sopportare e capire, no? Sì. Però i mezzucci, quello che tira la maglia, quello che ti mette la mano in faccia, quello che alza il gomito, lì non va bene in Europa, quindi loro rischiano. Esatto. E a proposito di nazionale, Pepito Rossi e Mattia Destro, ma sono stati trattati a pesci in faccia dal mister della... Sono due casi diversi però. Perché? Perché secondo me Rossi non era pronto. E allora che l'hai convocato a fare? E allora che l'hai convocato a fare? E allora che l'hai convocato, perché l'hai convocato? Cioè, Rossi che dice, mi ha illuso convocandomi, allora se io non sto bene... Però ho capito, adesso sai che, sai dove nascono i dilemmi? Eh. Che Prandelli non è chiaro, è ambiguo. Cioè Prandelli è un furbacchione che vuole dare i resti soprattutto alle società potenti, no? Non si vuole inimicare nessuno, è il furbetto dalla parrocchia, perché se fosse stato più chiaro, più limpido, anche con destro, no? Dice, io l'ho convocato perché il campionato italiano, tu si permessi a fare i 30, però non rientri nei miei piani pratici, tecnici, no? Sì. Quindi vai a casa. Credo che sarebbe stato più onesto. Certo, sì sì. È sul fatto dei Rossi, uguale, è stato ambiguo pure là, perché evidentemente, ma ti pare a te che un selezionatore, allenatore della nazionale, non sa quali sono le condizioni fisiche prima che convoca un giocatore? Non c'è i referti della società di appartenenza, oppure fagli un check-up prima che lo convochi? Cioè, l'ambiguità, io quello che non mi piace di Brandelli, che è ambiguo. È vero. Ci sta scrivendo Alessandra, ma il fatto che fa giocare Balotelli centravanti non è uno scandalo, visto che Balotelli quando gioca all'ala sa pizzicare anche i cross per i compagni che fanno gol. Sì, ma il fatto è che non gioca centravanti. Ma chi gioca centravanti? Nessuno. Come nessuno? La Roma, perché a nazionale c'è un centravanti di ruolo? Me ne dici uno? No, non c'è, infatti non c'è. Uno che c'era è andato a casa, era a destra. Oh, ma a quel punto non doveva prendere un altro... Cioè, quando si fanno... Cioè, la nazionale italiana da sempre c'è avuto un centravanti d'aria. Da sempre. Cioè, per capirsi, così ci capiamo tutti, il toni della situazione, no? Mi dici che è il toni dell'Italia? Sicuramente con dieci anni di meno. Il mobile è più uno che gioca esterno che centrale. In segno quale? L'Italia è uno che gioca più esterno che centrale. Ma dici qual è il centravanti dell'Italia? Non ce l'ha. Pure in segno e gioca largo. Quindi è un altro esterno, non ce l'ha. L'Italia non ha un centravanti come intendiamo noi. D'aria? D'aria, non ce l'ha. Guarda come gioca il mobile nel Torino. Secondo Marisa, Brandelli vuol giocare con il falso centravanti alla Spalletti, tanto per capire. Ma Brandelli è un furbacchione, vuole giocare contro piede, tutti arrocchiati e palla lunga per i balotelli. Dici? Sì, sì. Ma così dove rischiamo di andare? A casa? Ma non lo so, perché poi l'Italia c'è una tradizione ai mondiali che poi alla fine ti rifotterà a far riva. È una squadra speculatrice, è una squadra difficile da battere comunque. Non è facile giocare contro l'Italia. Ho capito, però... Il 23 è un bel numero, penso all'Ipi. Scusa, già pure dalla nostra chat e da coloro che ti hanno preceduto, tutti speriamo, nella pessima forma della nazionale inglese, speriamo che nell'Uruguay Suarez non riesca a giocare perché ancora si deve riprendere dall'operazione al menisco. Il Costa Rica magari se lo sai prendere con 1-0 lo mandi a casa. Scusami, l'Italia, quando è mai partita l'Italia favorita per dirci il mondiale? Beh, guarda, se non ricordo male, la nazionale che giocò in Argentina nel 1970... Non era favorita. Non era favorita ma cominciò a giocare tutte le partite. Guarda, la nazionale che era data tra le prime quattro sicuramente era quella del 70, ma c'era una squadra di grandi giocatori, non quella del 70, che arriva al finale col Brasile. Sì, sì, è vero. Poi la grande nazionale era quella dell'82, secondo me è stata in assoluto con quella del 70 la più forte di tutti. Nel 78 fummo sfavoriti perché due tiri da fuori dell'Olanda ci mandarono a casa. Però sulla carta non è che noi eravamo favoriti per vincere il mondiale. Poi un'altra squadra che era una buona squadra, non una grandissima squadra, però avevamo i favoriti del pronostico perché giocavamo in Italia e quella del 90. Ma dopo, quando mai siamo stati favoriti, no, per vincere i mondiali? Assolutamente no, pure quando li vinse Lippi fu una sorpresa. Il 23? Tu ho risposto. Eh sì, vabbè, ma si gioca anche col 23, no? No, ma lui ha giocato soprattutto col 23. Allora, ma ti ricordi come siamo arrivati in finale? È vero. Allora, senti quest'altro. Lorenzo, Lorenzo, ti manda un grandissimo abbraccio. Sei la luce sportiva. La luce da che? Eh, vabbè, non lo so, se parli di Roma sarai la luce della Roma, chiaramente, no? No, no, la luce della Roma sono i giocatori. Allora, Lorenzo vuole sapere da noi, in particolare da te, Ranocchia, Barzagli, Bonucci e Chiellini, tutti a quattro a casa e ne prendiamo altri quattro, ma ormai non si può più fare. Ma mi dovete spiegare, in Italia, giocatori italiani più forti di quelli, non ne vedo molti, onestamente io. A stori del Cagliari? Sì, vabbè, ma siamo a quei livelli, come l'altro del Parma, che mi sfugge il nome. Paletta. Paletta. Eh, siamo tutti a quei livelli, cioè, cioè non ci stanno più Nesta, Cannavaro, Maldini, Baresi, Cabrini, Gentile. Che peccato, però. Perché, ma di che stiamo a parlare? Che peccato, però. Eh, ma la verità, però, scusa, la verità. Eh, allora, ci sta scrivendo Daniele, tifosissimo della Sampdoria, era Gastaldello da prendere tra i 22 che dovevano giocare in Brasile. Gastaldello, centrale difensivo della Sampdoria. Eh, oddio, non è che mi ha proprio entusiasmato quest'anno. Ma io penso che la Sampdoria ha preso 70 gol. Quanti gol ha preso la Sampdoria? Sì, vabbè, poi non sarà colpa solo di Gastaldello. No, per carità, non discuta, questa era una battuta la mia. Si aggiunge a Daniele e Maria, oh, c'ho i tifosi della Sampdoria oggi, De Silvestri e Gastaldello dovevano andare in nazionale, perché non lo dite? Non lo dico perché non lo penso. Nemmeno io, sinceramente. Cioè, sono i giocatori che giocano, che sono convocati, non mi sembrano molto inferiori. Cioè, stiamo a parlare dei giocatori di livello medio, eh? Eh sì, rientriamo. Non è che stiamo a parlare dei Cabrini, di Nela o di Gentile. Sì, 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 rientriamo. Di che stiamo a parlare, di Gastaldello, di chi parla, la bate. Eh, come dici te, rientriamo sempre... Sì, rientriamo sempre in una media-bassa qualità. Con giocatori di media-bassa qualità, dove si va, Virgilio? A casa? Non lo so, non lo so, io non c'ho la balla di bene. Anche perché, no, anche perché ti dico subito, vedendo il girone tu ti puoi piazzare primo o secondo e passarlo. Dopo ti incroci con una delle grandi forze calcistiche, o Spagna o Brasile o qualsiasi altro, e vai a casa dopo. Ah, se arrivi secondo si complicano le situazioni. Se arrivi primo è diverso. Sì, è diverso. Però ci riesci ad arrivare alla semifinale, Virgilio, con questa squadra? La semifinale sarebbe un grande successo. Anche perché, visto l'amichevole con Lussemburgo che lascia... Ma non fanno uguale, gli amichevoli non fanno testo. Ho capito, ma... Non hanno mai fatto testo gli amichevoli. Il problema è un altro, De Angelis e mio. Sì. Che mentre prima non facevano testo, ma c'avevi una bellissima rosa, adesso non fanno testo uguale, ma la rosa attuale è inferiore a quella degli altri mondiali. È vero. È vero il discorso. È vero. Alla fine. E allora? E allora niente. Noi comunque abbiamo una grande tradizione. Siamo in Italia e abbiamo vinto quattro mondiali. E alla fine, nel torneo, poi vedrai che sarà difficile battere l'Italia. Non dico che vince le partite, ma battere l'Italia sarà difficile. Ma si va a casa anche pareggiando comunque. Sono d'accordo con te. Allora usciremo a testa alta praticamente. Magari con tre pareggi ce ne andiamo a casa. Non lo so se usciremo a testa alta o bassa, ma però sicuramente non sarà facile. Esatto. E con queste perplessità per oggi ci lasciamo. Virgilio, allora mi stanno dicendo qua, da gente che è vicina a me, che ti devi armare di santa pazienza quando uscirai perché c'è il caos per le strade di Roma. Ma io sono molto fortunato perché dal luogo di lavoro a casa mia è un chilometro e mezzo. Quindi ci puoi andare anche a piedi? Quindi ma male che va faccia dieci minuti di fila, non di più, quindi mi salvo. E meno male che è così perché con lo sciopero dei 24... Siamo sempre il sindaco genovese. Esatto. E che è genovese proprio sotto tutti i profili a sto punto. Perché se è stato trovato un escamotage per arrotondare lo stipendio degli impiegati comunali a 1100-1200 e tu vai a ridoccare questo meccanismo, riporti la gente a 900 euro al mese... E allora perché non ci vive lui il sindaco marino a 900 euro al mese e poi ci viene a dire come ci campa con una famiglia... E poi rispondo pure un sacco di soldi perché va in bicicletta e mette anche la benzina. Eh sì, è vero. È vero, è vero, è vero. Ci fermiamo qui perché sennò oggi cannoneggiamo nel vero senso... Buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie Virgilio, buon fine settimana e un grandissimo abbraccio. Ciao, grazie a te. Allora, ringraziamento al simpaticissimo Virgilio. Io ricordo sempre che la trasmissione, oltre che da Stapparadio.it, Stefano Tini Radio, offerta da Valcor, calzature, borsa, abbigliamento e accessori. In via di Torzapienza 35 ABC, il telefono è lo 06 22 84 544. Allora, lasciamo questa cornice con Virgilio e tra un po' ce ne sarà un'altra con un altro ospite. Alle 16 e 50 vi ricordo che ci sarà il collegamento sulla piattaforma Vangroup. Per il momento grazie e tra qualche istante ci risentiremo sempre con questa è la Roma, versione estate. Quante volte io ti ho detto questa storia così non va. Questa storia così non va. Tu eri molto distratta, cosa avrai dentro chissà, non sei quella che sei, ma conoscendoti dai. Quell'allegria non so, dov'è finita da un po'. Tu sei stata, rimani e sarai qualcosa da amare. Quella gioia che ho dentro di me ti vorrei donare. Non lasciarmi mai perché non c'è nulla dentro di noi che ci possa stancare o farci lasciare così. Oggi siamo ancora lontani, non riesco a trovarti più. Non c'è più il tuo sapore dentro una maglietta e un biso. Quella carezza che tu avevi solo per me. Tu sei stata, rimani e sarai qualcosa da amare. Quella gioia che ho dentro di me ti vorrei donare. Quella luce degli occhi miei risplende anche nei tuoi. Se ti lascerai andare, tornerai da amare con me.